Siamo nelle fasi conclusive del cantiere, la settimana prossima arriveranno gli arredi, quindi complessivamente in quel cantiere, che è un cantiere molto importante, che comprende appunto spazi, media library al piano terra, un bar-ristorante e una zona co-working al primo piano, siamo arrivati alla fase conclusive dell'appalto, talmente conclusive che ci sono gli arredi. Quello appunto che è interessante è che nel frattempo l'amministrazione comunale sta studiando molto in dettaglio le funzioni che vengono insediate, e quindi è confermata la funzione di biblioteca al piano terra collegata a quella che è la funzione della Lazzerini, in particolare anche con spazi di media library, quindi con una gestione, una fruizione digitale, in più uno spazio dedicato alle start-up, quindi collegando la funzione a Prisma, ma intendendo in questo spazio portare non solo le aziende come sono a Prisma che hanno, le start-up, una vocazione esclusivamente dedicata al distretto tessile, ma attraverso un bando che l'assessora Benedetta Squittieri ha in procinto di emanare, anche start-up che si occupano di inclusione sociale, anche diciamo in altri ambiti. E poi chiaramente il bar-ristorante e al primo piano la funzione di co-working, che avrà una funzione destinata a laboratori, spazi, anche per l'università.